Sembra che successe il vero patatrac, che strano giorno che fu per noi montanari, quel giorno fu la gente del paese a correre per le campagne e a urlare è finita la guerra, noi tutti andavamo di casa in casa a congratularsi per la fine della guerra, quei pochi uomini che c'era andarono a suonare le campane, ma quando arrivano nella chiesa di Monzuno, Don Castelli disse Ragazzi, andate pure a suonare, ma la guerra deve ancora incominciare per noi italiani. Ci furono quelli che sentendo le parole di quel prete gettavano le braccia all'aria dicendo che non era vero. Quel giorno, fra tanto chiasso, finalmente venne la sera, ma le campane ancora suonavano a festa, poi subentrò la notte e anche il silenzio. Solo gli uccelli notturni cantavano in lesturbati, ma a me le parole di Don Castelli mi facevano meditare. Lui aveva studiato e ci viveva lontano, non era dei zappaterra come noi. Margherita Gianelli, nata il 4 dicembre 1922 a Marzavotto, Bologna. Grazie. 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 Grazie.